Un'importante iniziativa questa con degli atleti che fanno la testimonia. Sì, è stata una bella iniziativa e devo dire che il mondo dello sport ha risposto immediatamente senza nessun problema. Noi abbiamo pensato di coinvolgere il mondo dello sport in una campagna per la donazione del sangue per vari motivi, perché vogliamo fare una campagna rivolta molto ai giovani che sono forse la parte critica. Avevamo bisogno di una campagna informativa forte che sollecitasse le persone sul tema della donazione del sangue perché la nostra regione è sempre stata autosufficiente ma abbiamo avuto un momento molto critico nella scorsa estate e vorremmo arrivare invece attrezzati quest'anno nella prossima estate e con l'aiuto delle associazioni e di tanti altri soggetti abbiamo pensato che forse bisognava sollecitare la gente ed attenzionarla su una cosa molto semplice da fare, per niente dolorosa, anzi che ha una ricaduta anche sulla salute delle persone e richiamare l'attenzione sul fatto che comunque del sangue non ne possiamo fare a meno nel nostro sistema sanitario. è una cosa che non si costruisce in laboratorio, si può prendere e si può ottenere solo dalla donazione delle persone, è un gesto di gratuità assoluta ma che salva la vita a tante persone. Ormai la tecnologia porta ad eseguire nel nostro sistema sanitario interventi sempre più raffinati ma che hanno bisogno sempre di più anche del sangue, il sangue non si costruisce, c'è bisogno di sollecitare le persone a donarlo. Questa è una regione che ha sempre avuto una grande tradizione sotto questo profilo, che ha una collaborazione straordinaria con le associazioni, con Avis, Fratres, le pubbliche assistenze e la Croce Rossa e abbiamo pensato che forse utilizzare l'immagine dei campioni dello sport poteva sollecitare i giovani a pensare che questo gesto, che è un gesto sanitario che si fa da sani, però forse è l'unico gesto sanitario che fanno le persone sane, vedere che tanti campioni dello sport si prestano a diffondere questo messaggio poteva forse sensibilizzare i giovani.